Vogliamo ripercorrere con te attraverso queste bellissime vignette che avete disegnato la storia delle politiche culturali in Italia dagli anni 80 oggi. Allora abbiamo gli anni 80, c'è questa donna, si chiama Cultura, con un uomo che è l'economia che gli porge la storia delle politiche culturali in Italia. Vignette preparate da Marcello Minuti, nonostante come economista della cultura c'è un sogno nascosto che era fare il vignettista, ma quello è il primo incontro tra economia e cultura, noi la vediamo schematicamente, però secondo me dal punto di vista del filo rosso si capisce bene. Il primo incontro è un incontro al buio, nel senso che da una parte c'è lei, questa cultura ben propetta da tutti coloro i quali l'avano sempre tutelata, immagino nel patrimonio con la cultura terrestre, la conservazione, lei è questa donna che è meglio povera di facili costumi, per cui il gran tema di fare un minimo di economia con la cultura inizialmente viene vista come un modo per banalizzarla da una parte e sfruttarla dall'altra. Questo è l'atteggiamento iniziale che però in effetti, e dall'altra parte trovi invece l'idea dell'uomo goffo che arriva un po' col fiore è l'economista che l'approccia in maniera un po' particolare, che voglio dire, voglio dire che in realtà tutto quel ramo che nasce dall'economia del benessere, che è appunto l'economia della cultura, approccia la cultura pensando come volano di esternalità positive, cioè che vuol dire finanzio con spesa pubblica l'istituzione culturale non tanto per quello che fa, non tanto per quello che produce, non tanto per la qualità delle cose che fa, quanto per il fatto che può creare esternalità si dice banalmente fa occupazione, questo rascia un po' di reddito sul tavolo, questo può produrre un po' di consumi, questo fa un po' di domanda. Questo è importante però perché nella misura in cui viene finanziata per esternalità, in fondo in fondo che cosa poi si fa veramente, qual è la qualità di queste gestioni, le scelte che vengono poste in esse, non sono eventi di valutazione. Il mio lavoro produce e viene finanziato. Esatto, esatto, ma che sembra assurdo, però in realtà è anche, lo si legge ancora in alcune leggi di finanziamento, sono presi alcune leggi anche regionali di finanziamento e della cultura, non a caso tra gli indicatori di finanziamento c'è l'occupazione. E poi quali? Regione Sardegna? Regione Sardegna, per esempio, fino a un po' di tempo fa, ci aveva, noi abbiamo fatto un lavoro inizio anni 2000, ci aveva nella legge 4 proprio, aveva nel finanziamento delle cooperative che avrebbero dovuto gestire i servizi virtuali, uno dei driver, uno dei criteri in base era il numero di occupati. Ora questo è un tema importante, ti dice che cosa? Ti dice che lo faccio per fare occupazione in parte, perché se vado con logica di quella che dovrebbe essere l'economia e gestione di quel servizio, in un posto o una sardegna, con stagionalità fortissime, qual è il risultato? Che se io standardizzo con 20 persone di personale, durante l'inverno probabilmente giocano a carte, durante l'estate devo prendere l'annevo altri 40 perché non ce la faccio col picco, cioè significa avere non finanziato imprese, ma scelto certi tipi di oggetti da finanziare per altre aspettative. È importante, è importante perché questo significa, insomma, significa che poi ci siamo affacciati agli anni 90, su questo ci avrà un parere del Consiglio Europa degli anni 90, che nonostante eravamo uno dei paesi che aveva speso tanto sulla cultura, tra gli anni 80 e gli anni 90 gli operatori che avevano le tre dell'oro, come al caso, si è speso molto, però poi dopo di musei aperti non ce ne avevamo tanti, di musei con servizi aggiuntivi, per dirtelo un altro, non ce ne avevamo tanto, cioè che significa? Avevamo speso molto, ma non per la qualità della proposta o per il consolidamento di alcune brassi, insomma, un mondo vicino nel tempo, ma lontano da quelli che sono i discorsi di oggi. Può essere che è da questa visione che noi abbiamo iniziato a rimanere un po' indietro a livello di offerta culturale. Secondo me, guarda, la staffetta da questo punto di vista abbiamo perso un po' di anni, ne abbiamo guadagnati su altri frutti, però da questo punto di vista, quindi io porto qua il mio mulino che sono un gestionale, uno che è un'organizzazione centrale, allora, sì, da una parte noi abbiamo avuto un primo momento che era, prima di quegli anni, era un mondo tutto chiuso, no? Nel patrimonio, in particolare lo vedi, o negli operatori anche dello spettacolo, cioè si discuteva tra operato, cioè il secondo momento in cui si affaccia l'economia, ma si affaccia l'economia macro, quella appunto che cerca effetti di sistema, non si concentra sugli effetti e la qualità delle scelte operate, il terzo passaggio, la terza staffetta che chiude col cerco, il cui ci lascia indietro, secondo me è la stagione dei giuristi, cioè gli anni 90, nei primi anni 90, che succede? Succede che… Stiamo passando alla seconda stagione? Quasi, sì, bravo. Cioè, sostanzialmente, subito dopo quei famosi anni 80-90 entriamo in un quadro più complessivo di processo di riforma della pubblica amministrazione, di sostanzialmente di ricostruzione proprio dell'assetto di governo dello Stato italiano, quindi inizia tutto quello che è il decentramento, la sussidiarietà verticare, non t'annoglio tutta una serie di temi, di organizzazione della pubblica amministrazione, dentro la quale però c'è un tema di riorganizzazione del settore nostro, che vede la proliferazione di soggetti autonomi, vedi fondazione, aziende speciali, eccetera, cioè vede innanzitutto un ragionamento di trasformazione delle scatole, si è scambiata la trasformazione delle scatole con l'innovazione, ho cambiato i vestiti, guarda sugli enti lirici questo è facilissimo, l'ho trasformato gli enti pubblici non economici a fondazioni e quindi, e quindi punto, perché lo trasforma gli enti lirici a fondazioni, ma… Sempre salti pubblici sono… A, ma B, questo non significa aver trasformato la modalità di gestire quella cosa, una delle aspettative era la raccolta fondi e la capacità di far entrare i privati dentro questi soggetti, a un certo punto ci siamo accorti, però non fanno grande fundraising, ma se tu vai via dal vestito e guardi le competenze interne, l'organizzazione interna, le organigrammi che c'avevi quando era ente pubblico non economico, con l'organigramma, cioè ruoli, competenze e responsabilità che c'hai dopo che hai diventato la fondazione è lo stesso, allora non è che se cambio vestito automaticamente il pespidio divino arriva nei soldi, forse è più un problema di competenze, quindi… E manca anche la famosa valutazione di cui parliamo in un altro momento… Certo, per cui a un certo punto, qui ancora la valutazione è un non problema, per assurdo tu, sia nella prima fase, sia nella seconda quella degli economisti, sia nella terza quella dei giuristi, adesso dico quello del paura, però oggettivamente il tema della valutazione della performance, valutazione delle scelte, valutazione dell'azienda culturale, dell'organizzazione culturale è un non problema, perché non la valuta come organizzazione, perché non la valuta come organizzazione. Nel rapporto tra economia e cultura in quegli anni lì, mentre i giuristi giustamente si cimentavano in ingegneria istituzionale, purtroppo secondo me questo rapporto tra economia e cultura diventa un rapporto un po' promiscuo.